Ciao, oggi faremo un video bellissimo, guardate siamo sotto all'anello andate in appoggio all'anello e vediamo chi riesce a resistere di più chi vuole cominciare? inizi tu? allora facciamo due giri e sommiamo quanto rimanete allora vediamo, aspetta che ho le luci in faccia vai micchi quando vuoi brava, respira dai micchi quanto è Elie? 40 40 secondi per Nicole, bravissima sei un po' storto dai micchi dai bravissima Elie, hai fatto partire quando era ad appoggio o quando si è staccato i piedi? ho staccato ok, va bene chi è pronta? Erika vabbè facciamo un giro solo allora quanto è? quanto ha fatto lei? 53 magari quando è a 30 dillo Elie cosa amici? nooo quanti secondi per Erika? 18 sembrava che te lì su non facevi neanche un po' fatica ma perché? Giadi ma a me faccia male il pettorello se non sono salita dove vai Laila? dici quando è a 30 è lì? sei quasi a metà sei quasi a metà eh 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 se vuoi scelgire quando hai un po' più ma più altra visita non mi riesco a dirmi ahahahahah e se vuoi scelgire brava quanto un minuto e 04 letizia guarda se hai bisogno il tappeto va bene scendi dai sei partita brava stai lì attacca le braccia e le gambe si è vero questo esercizio è bestiale perché quando cominci a far fatica tremi e ti si muove ma leti va bene o non eri pronta perché stai facendo solo la prova va bene ok si sta tranquilla fa niente sta così attaccale alle cosce dai ti scegliere no resisti resisti dai brava super al tuo limite dai dai brava e si quando cominci a ti tremano tantissimo eh eh già di ma l'anno scorso non eri ancora pronta sulle braccia eh eh dai martina ma l'anno scorso non è f нас e erkat flks questo momento è troppo critico bravissima perché poi non riesci più a controllarle quando cominciò a tremare vero? Camilla no dai Camilla rifacciamo dai metti sotto questo qua non è riuscita a neanche arrivare alla porcia ma poi la faccia è complicata Emma dai Camilla brava quanto ha fatto? Emma chi è che manca? Emma, Marti, Rosa ed Emma ok resistita si è bestiale quando perdi il controllo Martina quanto ha fatto l'Emma? 18 18 rifacciamo è un altro tentativo Marti stai decisa ok sei stata rapida Rosa Rosa monica bene r shots no dai cosa è mai stai non ci brava quanto ha fatto la rosa? 32 secondi per rosa Emma allora il numero da battere Emma è 1 e 1 e 04 vai Emma non è mia sorella dai secondo dai Emma decisa sono alti dai Emma dai 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 bravissime è difficile questo esercizio vince questa sfida non è colpa mia scusate speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi che se volete ricevere i nostri auguri di Natale personalizzati dovete abbonarvi al canale ciao 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 Grazie.